Mirta Merlino con il nuovo spot di pomeriggio 5 ha catalizzato l'attenzione degli utenti social. Molti infatti hanno sottolineato soprattutto la mancanza di originalità dello spot. La conduttrice in total white guarda in camera e dice vi aspetto qui tutti i pomeriggi e intanto in sovrimpressione appare la scritta a settembre. Poi però la Merlino aggiunge una frase dagli intenti poco chiari. Scusate ma non era un settimanale? chiede. La domanda sembra riferirsi a tutte le voci circolate in questa settimana in merito al nuovo programma di informazione e intrattenimento alla cui guida ci sarà proprio Mirta Merlino. La battuta della conduttrice non è piaciuta agli utenti che sui social hanno riversato tutto il loro disappunto. Per molti infatti l'ironia della conduttrice non porterà buoni risultati in termini di Cher. In Rai si sfregano già le mani per gli ascolti della vita in diretta. Oh ma Tano può dormire sonni tranquilli vista la concorrenza si legge in rete. Alcuni commenti sono durissimi. Non sai condurre, il promo è pietoso. Prima di dicembre chiude la trasmissione. Che ne pensatevi a riguardo? Scrivetemelo giù nei commenti. Grazie. 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 Grazie.